ciao a tutti benvenuti in un nuovo video questo video ve lo dico già sarà un video abbastanza lungo e anche abbastanza ingarbugliato perché tratta dei temi che non sono proprio collegati tra loro comunque vi lascio in descrizione diciamo il minutaggio di dove vengono trattati alcuni argomenti in modo da organizzarlo un po meglio e quindi in questo video parleremo di due argomenti che comunque hanno a che fare con microsoft e se ne è sentito parlare abbastanza ultimamente allora il primo è il mio commento sulla criptovaluta della microsoft che è stata brevettata con il patent w o 2020 060606 che è stato interpretato da alcuni complottisti come appunto il numero di satana quindi veramente una coincidenza perlomeno curiosa e vi dirò di che cosa ne penso di questo progetto se è veramente una criptovaluta oppure no e quali sono le caratteristiche che comunque fanno parte di questo brevetto e l'altro argomento che apparentemente non è collegato ma ovviamente viene sempre da microsoft quindi glielo faccio entrare in questo video e forse non è detto che sia poi così scollegato da tutto il discorso che farò ed è quello appunto che microsoft ha deciso di estendere linux aggiungendo delle funzionalità proprietarie che funzionano solo su windows e il caso in questione è quello delle librerie directx e quindi si verranno a creare dei software sviluppati su windows all'interno di linux wsl quindi questa emulazione che dipenderanno da delle funzionalità presenti però solo su windows quindi una cosa veramente incredibile e questa cosa è abbastanza strana e molti hanno ricordato una delle politiche utilizzate in passato da microsoft per quanto riguarda i browser quindi il fatto che internet explorer avesse applicato la politica di embrace extend extinguish quindi il fatto che inizialmente la microsoft tende o perlomeno in passato ha implementato degli standard dopodiché ha aggiunto delle estensioni proprietarie e essendo comunque un player interessante abbastanza grande sul mercato è riuscita a imporre delle tecnologie che appunto poi alla fine non erano standard e spesso viene citato active x che è appunto una tecnologia che si usava in passato nelle pagine web che fortunatamente adesso non si usa quasi più che dire direi di iniziare subito con il discorso sulle criptovalute e poi cerchiamo un attimo di vedere un po la il percorso che c'è stato allora il discorso delle criptovalute appunto come dicevo la microsoft ha proposto questo patent questo brevetto di una criptovaluta che viene minata col corpo perlomeno questa è stata la narrazione principale il documento è un po di pagine però appunto ci sono dei disegnini curiosi e poi vi consiglio di leggere più che altro le affermazioni finali che diciamo riassumono un po le cose che vengono dette in modo molto più allungato e prolisso nelle pagine precedenti allora vediamo quali sono i concetti chiave che sono appunto nella parte claims e quindi quello che vorrebbe fare microsoft è una criptovaluta che viene data alle persone in base alla loro attività celebrale e ovviamente di criptovaluta non so se andremo a vedere il dettaglio comunque si parla di criptovaluta che può essere generata da server oppure da altre reti distribuite però in realtà l'aspetto distribuito non è così interessante cioè probabilmente non sarà mai una rete distribuita veramente di computer sarà un computer che deciderà quali sono le azioni per fare mining è interessante però la parte quella di interfaccia appunto con il cervello perché vengono analizzate alcune attività celebrali per definire se un utente ha fatto meno una certa attività quindi questa cosa detta così può sembrare un po inquietante però come tutte le cose potrebbe essere una cosa positiva per esempio aiutare delle persone che magari non possono interagire con il linguaggio parlato o con altri sistemi o può essere visto come sistema negativo sorveglianza di massa e cose molto brutte purtroppo quando si parla di tecnologia spesso si parla del fatto se la tecnologia è buona o cattiva in realtà come spesso accade una tecnologia di per sé non è né buona né cattiva dipende poi dell'uso che se fa e chi è che ha il controllo poi di di questa cosa uno può dire l'acqua è vita però se una persona viene con un idrante ad alta pressione e te lo spara contro ovviamente in quel caso lì l'acqua non è più vita è lo stesso questo tipo di di tecnologia le appunto le cose interessanti sono che alcuni parametri che vengono utilizzati per verificare che hai fatto una certa attività sono appunto le onde celebrali le il battito delle pulsazioni il calore del corpo e sostanzialmente questa queste questa analisi non vengono inviati così come sono questi parametri ma viene inviato un hash a un server e forse poi andremo a vedere l'immagine che riguarda questa cosa e appunto poi vengono associate sostanzialmente dei crediti per il fatto di aver fatto un certo tipo di azioni che che viene appunto richiesto è un brevetto quindi una cosa abbastanza generica non ci sono algoritmi particolari o spunti su quali casi concreti verrà utilizzata questa cosa di fatto si parla di criptovaluta però secondo me se al posto di criptovaluta scrivevano crediti probabilmente non ne parlava nessuno il fatto che hanno definito questa cosa criptovaluta invece di credito probabilmente è un qualcosa che dal punto di vista del marketing tira un po di più che dire appunto come dicevo è un'alternativa alla video sorveglianza per quanto riguarda alcuni tipi di attività perché se noi riusciamo a analizzare le onde celebrali invece delle immagini appunto risulta molto più scalabile che non analizzare di per sé le immagini ovviamente per analizzare le immagini bisogna avere comunque degli apparecchi hardware che qualcuno deve fare e delle persone devono avere impiantate per far sì che queste informazioni inviate corrispondono veramente alle onde celebrali e non qualcosa di simulato allora qui ci sono alcuni disegnini quindi c'è l'utente che i sensori che interagisce con un network ok e poi c'è il sistema di criptovaluta e questo non è particolarmente interessante qua fa vedere che ci sono più computer che hanno un ledger quindi un registro delle attività svolte dalle persone e appunto si parlano tra di loro e qua secondo me torna sempre in gioco la stessa ambiguità ovvero quella della proof of work che nel caso di bitcoin e di altre criptovalute è una prova che si può fare matematicamente nel caso di questo tipo di approccio la proof of work in realtà è un è il fatto che c'è un server che verifica che magari si sono attivati alcuni parametri e quindi se si sono attivati questi parametri tu hai svolto un certo tipo di azione e quindi potrai essere compensato con una criptovaluta però di fatto queste informazioni vengono inviate digitalmente e quindi non si ha la garanzia che queste onde celebrali siano vere oppure no è un po' come il gps il gps in realtà non è il gps che ci vede dal satellite siamo noi che in base ai satelliti che riusciamo a prendere una certa posizione inviamo a un computer il fatto di trovarci in una certa posizione però il fatto che siamo noi a generare queste informazioni teoricamente potrebbero anche essere falsate quindi questo aspetto quindi dell'anticontraffazione come in molti altri casi non viene quasi mai gestito quando si si tratta di questa prova perché appunto sono prove che richiedono interazione con il mondo fisico non sono prove verificabili matematicamente e qua appunto fa vedere un po' il tipo di interazioni qui viene appunto scritto chiaramente che c'è un task server quindi ci saranno alcune azioni che l'utente in qualche modo dovrà svolgere e questo server probabilmente ha appunto un range di parametri che fa sì che questa azione sia considerata valida vengono raccolti appunto i dati dai sensori appunto dopodiché viene fatta questa verifica e se i dati inviati dall'utente magari non sono già presenti in questa blockchain e quindi sono delle interazioni nuove e non la ripetizione di interazioni già fatte appunto il sistema fa sì che verranno accreditati dei crediti all'utente e niente quindi sostanzialmente questo è il funzionamento di questo sistema ci sono un po' di flow chart qui appunto si parla di range proprio perché appunto ci sarà battito cardiaco temperatura parti del cervello che si saranno attivate a seconda del tipo di attività e quindi se questi dati sono ritenuti valide dal server viene attribuito qualcosa alla persona che invia queste cose altrimenti no e qui fa anche qua vedere l'esempio del blocco e questo è il appunto di questo brevetto secondo me la parte più interessante è capire effettivamente il sensore che viene anche definito brain computer interface che è proprio una branca dell'informatica che si sovrappona con la medicina e secondo me la parte interessante più che altro è quella perché tutto il resto onestamente è un qualcosa che può avvenire già adesso con dei server quindi ci sono degli hash delle cose che possono essere considerate valide delle cose che non sono valide e appunto non mi pare nulla di così innovativo cioè anche i braccialetti quelli che vengono fatti da varie aziende per monitorare il fatto che tu hai corso meno uno magari lo può fare perché magari si sente più motivato però se tu prendi questo braccialetto e magari lo metti su una lavatrice oppure muovi solo il polso senza correre il braccialetto considera che tu stai correndo in realtà magari non lo stai facendo quindi poi dipende anche per cosa effettivamente si utilizzerà questo tipo di sistema sì lo so forse vi ho un po' deluso però obiettivamente non vedo nulla di così rilevante dal punto di vista delle criptovalute anche se ci sono state delle interpretazioni molto catastrofiche di questa tecnologia però appunto i sensori ci sono andando avanti sicuramente diventeranno sempre più affidabili precisi però la questione di fondo è sempre la stessa chi è che detiene la proprietà di questi dati e per cosa vengono utilizzati poi tutto il resto in realtà dal punto di vista tecnologico dipende appunto dai sensori non da altri aspetti e cambiando discorso invece parliamo più della parte software di microsoft è curioso vedere che cosa sta succedendo adesso nel mondo open source linux microsoft perché una volta c'erano delle divisioni più nette c'era balmer l'ex CEO di microsoft che diceva che appunto linux era un cancro poi il CEO dopo di microsoft ha iniziato un lungo processo per far diventare più open source friendly windows e microsoft e in effetti poi ci sono state varie vicende e la stessa cosa è successo anche nel campo diciamo di linux e di ubuntu in particolare una delle motivazioni per la quale era nata ubuntu era proprio quella perché microsoft aveva la maggioranza di market share del suo sistema operativo e quindi ubuntu cercava di essere un sistema operativo linux friendly proprio per sfidare microsoft nel contesto del desktop questa cosa in realtà è andata via via sfumando c'è chi è che prende questo cambiamento da parte di microsoft come un qualcosa di positivo c'è chi è che non si fida completamente di questo cambiamento visto che comunque non tutti i software per windows di microsoft sono stati portati su linux e al tempo stesso appunto windows continua a essere un sistema operativo proprietario quindi in realtà l'interesse di microsoft verso l'open source più che altro è un qualcosa per far funzionare l'ecosistema open source che è quello che alla fin fine è la base sulla quale funziona internet quello che conosciamo oggi anche se molti servizi online sono proprietari però molti condividono appunto delle librerie e questo fa sì che in realtà lo sviluppo viene fatto solo sull'ultima parte del progetto l'infrastruttura fortunatamente è in molti casi simile sia dal punto di vista del linguaggio sia dal punto di vista delle librerie utilizzate e un'altra notizia che è uscita ultimamente appunto che come viene scritto in questo articolo c'è stato un incremento di persone che si sono interessate in particolare ubuntu visto che comunque molti dei linguaggi di programmazione sono molto ben integrati e funzionano bene su ubuntu e nel tempo anche ubuntu è diventata più facile da usare un po' per tutti i tipi di utilizzi molte persone hanno detto ma perché devo continuare a usare windows se dopo tutto riesco a fare tutto quello che mi serve su ubuntu e questa cosa appunto si vede non tanto nel desktop ma si è vista vediamo se lo becco si è vista più che altro nel cloud che appunto c'è stato un crollo dell'utilizzo di windows come sistema operativo cloud e quindi come sistema operativo server che dire al tempo stesso però microsoft ha continuato a corteggiare questi sviluppatori che appunto dovevano scegliere se utilizzare windows con alcune limitazioni oppure passare a linux ed è curioso che alcune cose che su linux si fanno normalmente come il fatto di installare i programmi digitando dei comandi questa cosa a quanto pare è già disponibile o sarà disponibile a breve anche su windows quindi si potrà fare winget install app ed è una cosa abbastanza curiosa perché appunto normalmente su linux su linux ubuntu si installano le applicazioni con apt-get install nome dell'applicazione anche qua hanno mantenuto questo get e quindi in qualche modo cercano anche di fare dei tool che assomigliano a quelli già presenti su linux ubuntu e questa cosa secondo me a qualcuno crea un po' di confusione se non altro perché anche ubuntu stessa in qualche modo da visibilità a questo wsl che sta per windows subsystem for linux che sostanzialmente è un modo per far funzionare linux all'interno di un sistema operativo windows una sorta di emulazione virtualizzazione ed è curioso che appunto viene data spazio anche sul sito ufficiale di ubuntu di questo tipo di utilizzo e l'altro aspetto che forse si considera poco ma in effetti c'è Microsoft pian piano si è comprata oppure ha fatto dei software che in effetti hanno corteggiato molto anche gli sviluppatori che si trovano su linux per esempio bscode typescript e ultimamente si è comprata anche github che è il più grande servizio git attualmente esistente dove viene raccolto la gran parte del software open source a disposizione e si è comprata da quello che leggo si è comprato anche npm che è il software che permette di installare molte librerie appunto per node.js che è uno dei linguaggi di programmazione più utilizzato per lo sviluppo web sia su linux sia su windows e che dire l'altra cosa che è emersa è che ovviamente Microsoft fa tante cose ultimamente c'è anche Azure che è appunto il servizio cloud di Microsoft questa persona Adir Ron ha rilasciato questa infografica dove dice che appunto i primi 100 clienti più importanti di Microsoft utilizzano linux su Azure appunto un po' di dati che riguarda il fatto che su Azure è possibile far funzionare linux in cloud e anche tutti gli altri software che fanno parte di questo ecosistema appunto il fatto che la metà sia linux e linux è anche la piattaforma più utilizzata su Azure significa che appunto Windows anche sul cloud di Microsoft sta andando in minoranza e quindi diciamo per quanto riguarda Azure ovviamente linux è un tassello abbastanza importante l'altro sito che appunto raccoglie dati dell'andamento dei sistemi operativi del cloud quindi cloud market appunto fa vedere che normalmente quando si parla di linux linux appunto è solo un componente del sistema operativo di fatto i sistemi operativi che stanno correndo di più sono appunto linux quindi cose un po' custom poi c'è ubuntu e poi c'è debian quindi questi sono perlomeno secondo questa fonte i sistemi operativi linux più utilizzati e il fatto che appunto un sistema operativo linux uno dei più utilizzati si integri in questo modo con quello che ha annunciato Microsoft è abbastanza inquietante e la parte inquietante forse non viene accolta subito però viene applicata questa cosa quindi direct ml che è appunto una parte che dovrebbe far parte delle direct x che riguarda appunto il machine learning viene appunto implementata in questo modo qui quindi non vengono utilizzate le librerie che normalmente vengono usate su linux che sarebbero appunto le librerie cuda di nvidia che sono librerie proprietarie ma funzionano sia su linux che su windows e non vengono neanche implementate le specifiche opencl e opengl ma di fatto si cerca di far utilizzare appunto delle estensioni proprietarie attraverso questo sottosistema linux che però sono presenti solo in windows quindi di fatto chi è che sviluppa in questo modo usa si linux però usa linux che ha una dipendenza indispensabile su windows quindi non so personalmente mi sembra una cosa veramente troppo ingarbugliata per avere senso però di fatto è quello che è stato proposto e con questo però non voglio accanirmi contro Microsoft nel senso che come scritto su più articoli il fatto di utilizzare il machine learning allo stato attuale è una cosa abbastanza frammentata appunto ci sono diversi articoli che parlano di questa situazione di fatto esistono queste piacuda che esistono appunto su linux e windows ma sono proprietarie chi è che ha AMD non può utilizzarle direttamente lo standard dovrebbe essere OpenCL però il software di machine learning più utilizzato TensorFlow ha deciso che comunque supporterà CUDA e non supporterà OpenCL e questa cosa è veramente ingarbugliata quindi di fatto qualcuno potrebbe essere tentato di utilizzare queste API queste interfacce di programmazione della Microsoft però facendo così taglierebbe fuori le persone che utilizzano linux bare metal quindi linux vero senza altri sistemi operativi sul computer e ovviamente non sarebbe la cosa più corretta da fare perché appunto l'ideale sarebbe quello che ci sia un TensorFlow o altri software di machine learning che si interfacciassero con le schede video senza utilizzare appunto dei codici specifici in modo da avere il massimo dell'astrazione possibile però appunto questa è una situazione effettivamente ingarbugliata per adesso che sicuramente non è un qualcosa che interessa a qualsiasi tipo di utente e quindi tengo a specificare che la parte inquietante è proprio il precedente nel senso che se decidono di far utilizzare Linux in questo modo dagli utenti Windows è veramente un qualcosa di inquietante che potrebbe portare alla stessa frammentazione che c'è stata in passato quando la Microsoft ha spinto tecnologie come DirectX, Silverlight e altre cose che poi fortunatamente non hanno preso piede che dire questo era il mio lungo discorso su la criptovaluta della Microsoft che appunto per adesso secondo me la trovo ancora abbastanza innocua però fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate e invece questo DirectX Love Linux che purtroppo non è tanto così nel senso che queste DirectX non sono state rese disponibili su Linux dicono che forse saranno disponibili in futuro ma di fatto se spingono la gente a passare da questo DirectML significa che comunque chi è che ha Linux rimarrà sempre con un passo indietro rispetto allo sviluppo di queste API che dire è tutto fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questa questione nei commenti e quindi vi saluto e ci vediamo in un altro video ciao a tutti